Nascondeva all'interno di una plafoniera dell'officina meccanica di cui è titolare 25 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Un uomo di 54 anni, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato a Crotone dagli agenti della squadra mobile, che hanno agito in collaborazione con i militari del reparto cinofili della Guardia di Finanza. Nel corso di una perquisizione nell'officina meccanica ubicata nel quartiere Tufolo, grazie al fiuto del cane antidroga e all'opera di setaccio condotta all'interno del locale ingombrato da attrezzi oggetti vari, è stata individuata la sostanza stupefacente già suddivisa in quattro involucri.